Sono stati presentati a Teramo i primi risultati ottenuti con la spedizione Tapa Bajum 2023, tra gli obiettivi raggiunti nella spedizione l'esplorazione della montagna per l'individuazione della via di salita, l'esplorazione della grotta dei demoni e la cooperazione internazionale per lo sviluppo sociale per i popoli di Maya, la remota e la ricerca scientifica sul DNA antico. E' la continuità di una serie di azioni legate nel tempo, con le spedizioni precedenti che abbiamo portato la prima via ferrata in Himalaya nel 2017-2019 fino ad arrivare alla bandiera in vetta all'Everest nel maggio 2019 della regione Abruzzo, quindi un evento molto importante. Siamo tornati dopo due anni più di stop legati alla pandemia, siamo tornati in Himalaya con una serie di azioni legate all'esplorazione di una montagna che si chiama Tapa Bajum nella grotta dei demoni, con la collaborazione dell'Università di Bologna, ma soprattutto siamo andati sempre con una porzione importante di umanità, definiamo dieci anni di umanità con una serie di azioni. L'azione ad esempio è aver donato dei computer con dei programmi all'interno che consentono di una possibilità di consapevolezza, di lettura, una specie di Google all'interno della memoria stessa del computer, così è una specie di Wikipedia. La regione è molto rimota, non ha collegamento internet, non c'è elettricità fluente. Questi computer quindi avranno questo ruolo importante nella conoscenza del mondo, alla comunità, soprattutto alla scuola di bedding che ha 3.700 metri di quota.